Idea Web TV con Capitano Silvio Agostino in vista della trasferta a Marsala di domenica. Come vi state preparando? Come è arrivata la partita? Sicuramente ci prepariamo come ogni partita, nel senso che da martedì stiamo lavorando sicuramente per migliorare i meccanismi che ancora non funzionano bene. Andremo comunque a Marsala con l'attenzione alta perché è una squadra che ha raccolto punti sempre in casa. Se non sbaglio tu sei stata nelle file del Marsala qualche stagione fa, che ricordo ne hai? C'è ancora qualcuna delle tue compagne? Sì, ho un ricordo bello, sono stata bene giù a Marsala, c'è una ragazza che giocava con me, che era sci-re, quindi sono contenta anche di rivederla. Adesso avete portato a casa delle belle vittorie, quindi speriamo che continui questa scia positiva. Quali sono le vostre aspettative dalla squadra avversaria? Su cosa punterete di più l'attenzione? Sicuramente dovremmo battere forte e limitare i loro attaccanti di riferimento e sicuramente anche il muro difesa, dovremmo lavorare bene e essere comunque aggressive dall'inizio su tutti i fondamentali. In bocca al lupo! Crepi! Grazie! Grazie! Grazie!